La pandemia preme sull'Emilia Romagna che da lunedì passerà in zona gialla, anche se non cambierà praticamente niente dopo l'adozione delle ultime nuove norme da parte del governo, valida anche per le regioni, in zona bianca. La pandemia preme anche sul personale sanitario con quasi 20.000 nuovi casi in Romagna la scorsa settimana, cifra che verrà probabilmente confermata anche per gli ultimi sette giorni. Tutte persone che il sistema sanitario deve contattare e monitorare, portando al rallentamento del tracciamento e dei normali servizi garantiti dai professionisti degli studi medici di medicina generale. Una situazione difficile ma che non deve portare al panico, secondo Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica, che ha promesso oggi ospiti in collegamento streaming con l'onorevole Marco Di Maio, anche una soluzione più rapida per la terza dose per i ragazzi sopra i 12 anni d'età, fascia con il Green Pass a rischio scadenza. La febbre è alta, però non dobbiamo farci prendere dal panico, nel senso che i numeri che ogni giorno vediamo di nuovi casi sono altissimi, però la stragrande maggioranza di questi è rappresentato da delle sintomatologie modestissime. Quindi è un po' come se noi ci trovassimo nel periodo dell'epidemia influenzale a contare tutti i casi di influenza. Ci spaventeremo perché sono migliaia. Questo non vuol dire minimizzare il problema, il problema ha ancora un impatto sugli ospedali ed è un impatto che proporzionalmente aumenta con l'aumentare del numero di casi, ma che si sta gestendo proprio perché essendo la stragrande maggioranza della popolazione vaccinata stiamo reggendo quest'urto. Iniziate le prenotazioni per la dose booster dei 12-15 anni. I primi appuntamenti sono per la metà di febbraio. Il rischio per molti ragazzi è vedere schedere il Green Pass e non poterlo più utilizzare ad esempio per salire sui mezzi pubblici per recarsi a scuola. Si stanno così studiando sessioni straordinarie di vaccinazione, ma a causa dell'alto numero di contagi il personale disponibile è limitato. Ci stiamo ragionando e lo faremo sicuramente nei primi giorni della settimana prossima. Stiamo cercando di capire come fare. Bisogna tenere conto del fatto che ovviamente la difficoltà di avere personale sufficiente è una realtà. Non tanto perché non ce l'abbiamo, ma questo è un momento difficile anche per noi, anche se non stiamo vedendo un aumento dei casi di positività tra gli operatori sanitari eccessivo. Ci manteniamo sempre più o meno sulla stessa percentuale. Ogni settimana circa l'1,2-1,3% dei nuovi casi riguarda operatori sanitari. Ma quando i numeri sono così alti, quell'1,3% vuol dire tante teste. E sono teste che lavorano ovunque, nelle sale operatorie, nei reparti, e quindi che vengono a mancare e che è fatica a sostituire. Per questo non riusciamo neanche ad andare alla piena velocità che potremmo avere. Però ci stiamo pensando perché il problema è reale, per cui cerchiamo di vedere, insomma, stiamo pensando. Non sono in grado oggi di dare i dettagli, però appena avremo deciso lo comunicheremo a mezzo stampa, insomma.